La storia di Milano Romano La storia di Milano Romano La storia di Milano Romano Abbiamo fatto un survey perché questo è stato un experimento due anni fa prima di aprire la competizione per tutti gli bambini i bambini sono stati satisfei, erano entusiasti e i professori hanno detto che forzono i professori ad andare a lavorare in l'applicazione che era davvero piuttosto per loro i professori avevano molto elevato in tutti i bambini e questo anno abbiamo parlato di tutti i professori che anche i bambini con problemi con un tipo di disabilità vogliono essere involvati e quello che è importante per l'instituzione è che il visito di un museo è stato molto più successo perché si conoscevano che avevano che avevano raggiunto materiale e che avevano raggiunto con molti problemi con molti problemi, con molti problemi e molto bello queste famiglie sono stati di Milano ma non hanno mai visitato il museo e 35% di tutti i bambini i bambini i bambini sono stati ma non vedo il titolo ma non vedo il titolo per esempio ma non vedo il museo 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 il museo ma non vedo il museo ma non vedo il museo il museo ma non vedo 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 il museo il museo ma non vedo il museo ma non vedo il museo ma non vedo il museo ma 치 ma non vedo il museo ci siete Ma noi stiamo facendo qualcosa che abbiamo già chiamato UQOL, come come YouTube. Perché non si tratta di dire le esperti all'arriamo in Italia e all'arriamo in Europa, e in la fine, magari, non, all'arriamo in Europa, ma non ci tratta di loro il mondo, perché non ci tratta di loro, perché non ci tratta di loro, perché le loro storie, e abbiamo di loro unico storie delle storie di culture, che ci sono dei nostri spazio. E questo è il nostro nostro sogno. What are we doing now? The ongoing projects are an editorial series on entertainment in Roman times for the Ministry of Cultural Heritage and General Direction of Archaeology in Italy. And this is brand new, we're really in early stages. We want to make a sort of double classification for the Van Gogh Museum of Amsterdam because they have so many students visiting the museum and they want to listen to their voices. But together with the opinion of experts. So we want to build a sort of double fuzz, we say, in terms of application. From the research point of view, we want to investigate the cultural impact better. As I said, the user study, moving on, really trying to understand what happens. This is a question which is good for any work that you may be involved in. The work is nice, but what is really happening when the people come and visit my website to see my city? What do they really get? What will they really remember? What changes in time? And we also want to develop new instant multimedia formats like this one, different and like. And I also want to thank you again. But the very last thing that I want to show you is what I feel is probably the cutest application ever done with 1001 stories. We received this this year. It's pre-school children. We don't know part of this story or this opportunity. And they had an art lab in their school. And they wanted to tell the story of their art lab. And these are kids who cannot even read or... I just showed you how this one is. And the last thing we have, I just showed you a little example... ...E' stato bello lavorare con sessi e sgocciolare con la peccura. è stato bello trasformare questi sassi in cose bellissime e siamo contenti a farvi vedere e sassi negli nostri lavori in questo libro multiverdiale.